credo che voglia un caffè schiumato quanto ti dura questo voto di silenzio tre anni edo lui è il figlio dell'ex di monica monica sarà la mia testimone di nozze ma è la sua ex ti pare normale ma chi è quello è il fratello di sua angela e ha baciato ginevra voi non state bene perché non ci ha detto che ha fatto il test che test è compatibile e perché dovrei farlo è tuo padre che dio ci aiuti in prima visione giovedì prossimo 21 e 25 rai 1